Avevo deciso che la tragedia di Abbey Grange fosse l'ultima delle imprese del mio amico Sherlock Holmes che avrei rivelato al pubblico. Questa decisione non era affatto dovuta alla mancanza di materiale, poiché possiedo appunti su centinaia di casi ai quali non ho mai neppure accennato. Né d'altro canto, questa mia risoluzione era stata provocata da un diminuito interesse da parte dei miei lettori per la singolare personalità e per i metodi unici di quest'uomo straordinario. La vera ragione consisteva nella riluttanza dimostrata da Holmes a continuare, da parte mia, la pubblicazione delle sue esperienze. Finché aveva esercitato la sua professione, il racconto dei suoi successi poteva avere per lui qualche valore pratico, ma da quando si era ritirato definitivamente da Londra, dedicandosi allo studio e all'apicultura nella campagna del Sussex, la notorietà gli era divenuta insopportabile e mi aveva pregato, in modo perentorio, di osservare scrupolosamente i suoi desideri in proposito. Solo quando gli ebbe fatto notare che avevo già promesso al pubblico di divulgare l'avventura della seconda macchia, quando i tempi fossero stati maturi, soggiungendo inoltre che era giusto che questa lunga serie di episodi culminasse nel caso di maggiore importanza internazionale di cui si fosse occupato, riuscì alla fine a strappare il suo consenso a che dessi ai miei lettori un resoconto attentamente cauto del fatto. Se nel narrare questa storia potrò sembrare alquanto confuso in alcuni particolari, il pubblico comprenderà facilmente che i motivi della mia reticenza sono pienamente giustificati. Accadde dunque in un anno, o meglio in un decennio che non starò ad indicare, che un martedì mattina d'autunno ci trovammo, fra le umili pareti della nostra stanza di Baker Street, due ospiti di fame europea. Il primo, austero, dal naso e dagli occhi d'aquila e dell'aspetto autorevole, altri non era, se non l'illustre Lord Bellinger, due volte primo ministro britannico. L'altro invece, scuro di carnagione, dai lineamenti cesellati, elegante, ancora giovane e dotato di tutte le qualità fisiche e psicologiche, era l'onorevole Truloni Hope, segretario per gli affari europei ed uno dei più promettenti statisti del nostro paese. Si misero a sedere l'uno accanto all'altro sul nostro divano in gombro di carte e mi fu facile comprendere dalla loro espressione ansiosa e preoccupata che soltanto una questione urgentissima e della massima importanza poteva averli condotti da noi. Le mani sottili e solcate di vene azzurre del primo ministro erano strettamente serrate sull'impugnatura d'avorio del suo ombrello, mentre la sua faccia magra e ascetica si spostava senza posa, con una luce tetra nello sguardo, da Holmes a me. Il segretario per gli affari europei si tirava nervosamente i baffi e giocherellavano meno nervosamente con i ciondoli che gli pendevano dalla catenella dell'orologio. «Quando mi sono accorto della sparizione del documento, signor Holmes, il che è successo alle otto di questa mattina, ho immediatamente informato il primo ministro e, per suo suggerimento, siamo entrambi venuti da lei!» «La polizia è già stata avvisata?» «No, signor Holmes», rispose il primo ministro con quel tono rapido e sbrigativo per cui era famoso. «Non lo abbiamo ancora fatto, né è possibile farlo. Avvisare la polizia significa alla lunga informare il pubblico e questo è proprio ciò che soprattutto desideriamo evitare». «E perché, eccellenza?» «Perché il documento di cui si tratta è di tale portata che la sua divulgazione potrebbe molto facilmente, e oserei aggiungere quasi certamente, causare complicazioni gravissime. Forse non sarebbe esagerato ritenere che dal risultato dei nostri passi potrà risultare la pace o la guerra, a meno che non riesca a tornarne in possesso con la massima segretezza, poiché l'intenzione di coloro che lo hanno sottratto è proprio renderne universalmente noto il contenuto». «Capisco. E ora, signor Hope, le sarei molto obbligato se volesse espormi con esattezza le circostanze in cui il documento è scomparso». «Glielo dirò in poche parole, signor Holmes. Ho ricevuto la lettera, poiché si tratta di una lettera inviata da una potenza straniera sei giorni fa. Era talmente importante che non l'ho mai riposta nella cassaforte, ma l'ho sempre tenuta con me, portandola ogni sera a casa mia, a Whitehall Terrace, conservandola in camera mia e chiusa a chiave nella mia cassetta portavalori. Ieri sera c'era e di questo ne sono sicuro. Ho aperto la cassetta mentre mi vestivo per la cena e mi sono assicurato che vi fosse il documento, mentre invece questa mattina era scomparso. Avevo tenuto tutta la notte la cassetta portavalori sul mio comodino. Sia io che mia moglie abbiamo il sonno leggero e siamo entrambi pronti a giurare che nessuno è entrato nella nostra stanza e tuttavia le ripeto che la lettera non c'è più». «E a che ora ha cenato?» «Alle sette e mezzo». «A che ora si è coricato?» «Mia moglie è andata a teatro e io l'ho aspettata. Siamo saliti in camera nostra alle undici e mezzo circa». «Perciò la sua cassetta portavalori è rimasta incustodita per ben quattro ore?» «Nessuno ha il permesso di entrare in quella stanza all'infuori della governante al mattino e del mio cameriere o della domestica personale di mia moglie durante il resto della giornata. Sono tutti domestici fidatissimi e al mio servizio da moltissimo tempo. D'altro canto, ignorano nel modo più assoluto che nella mia cassetta portavalori potesse esservi qualcosa di più importante dei soliti documenti d'ufficio». «Chi sapeva dell'esistenza di quella lettera?» «A casa mia nessuno!» «Sua moglie però lo sapeva?» «Certamente no! Non ho detto nulla a mia moglie finché non mi sono accorto stamattina della scomparsa del documento». Il premier annui in senso di assenso. «Ho sempre saputo quanto alto sia il suo senso del dovere pubblico», disse. «E sono convinto che quando si tratta di un segreto di simile importanza, la sua discrezione si elevi al di sopra dei più intimi legami familiari». Il segretario per l'Europa si inchinò. «Dicendo questo, signore, lei non fa che rendermi giustizia. Fino a questa mattina non avevo neanche lontanamente accennato la cosa a mia moglie». «Avrebbe potuto immaginarlo?» «No, signor Holmes, non avrebbe potuto, né lei né nessun altro». «Le è mai successo prima di smarrire dei documenti?» «No, signore». «Chi in Inghilterra era a conoscenza di questa lettere?» «Tutti i membri del gabinetto ne sono stati informati ieri, ma l'impegno di segretezza che ricopre ogni riunione di gabinetto fu rafforzato dal severo monito del primo ministro. Santo cielo, pensare che nell'arco di poche ore sarei stato proprio io a perderla!» Il suo bel viso era sconvolto dalla disperazione e si stava strappando i capelli. Per un attimo intravedemmo l'uomo impulsivo, passionale, estremamente sensibile. Poi calò di nuovo la maschera aristocratica e con voce controllata riprese «Oltre ai membri del gabinetto ci sono due o forse tre funzionari nel ministero che sanno della lettera. Nessun altro in tutta l'Inghilterra, signor Holmes, glielo assicuro». «Ma all'estero?» «Beh, credo che all'estero nessuno abbia visto la lettera, salvo colui che ce l'ha scritta. Sono praticamente certo che non si è servito dei suoi ministri, dei consueti canali ufficiali!» Holmes riflettè per qualche minuto. «Ora, signore, sono costretto a chiederle ulteriori particolari su questo documento e sul perché la sua scomparsa potrebbe avere ripercussioni così catastrofiche». I due statisti si scambiarono una rapida occhiata e il primo ministro aggrottò le ispide sopracciglia. «Signor Holmes, si tratta di una busta lunga, sottile, di colore azzurro chiaro. C'è un sigillo di ceralacca con su impresso un leone acquattato. L'indirizzo è scritto con una calligrafia larga, decisa, e il destinatario, temo proprio, signore, lo interruppe Holmes, che per interessanti e anzi importanti che siano questi particolari, le mie indagini debbano andare a fondo della cosa. Che cosa diceva la lettera?» «Questo è un importantissimo segreto di Stato e temo di non poterglielo dire, e non ne vedo la necessità, se grazie all'abilità che, si dice, lei possiede, può trovare una busta a quale le ho descritto con relativo contenuto, lei avrà compiuto un'opera meritoria nei confronti del suo paese e, meritato qualsiasi ricompensa, noi siamo in grado di elargirle». Holmes si alzò con un sorriso. «Siete due degli uomini più occupati del paese», disse, «e anche io nel mio piccolo ho molti impegni. Sono davvero dolente di non potervi aiutare in questa circostanza, ma ritengo che prolungare questo colloquio sarebbe soltanto una perdita di tempo». Il premier balzò in piedi, con quello sguardo feroce che aveva fatto tremare più di un gabinetto. «Non sono avvezzo, signore», cominciò, poi controllò la sua ira rimettendosi seduto. Per un minuto o due restammo tutti quanti in silenzio, poi l'anziano statista si strinse nelle spalle. «Dobbiamo accettare le sue condizioni, signor Holmes. Senza dubbio lei ha ragione ed è assurdo da parte nostra chiedere il suo intervento se non le diamo la nostra completa fiducia». «Sono d'accordo con lei», confermò l'altro. «Glielo dirò dunque, facendo ciecamente affidamento sul suo onore e su quello del suo collega, il dottor Watson. Potrei anche appellarmi al suo patriottismo, poiché non saprei immaginare sventura peggiore per il nostro paese che la divulgazione di questa incresciosa faccenda». «Può fidarsi assolutamente di noi», disse Holmes. «Bene, la lettera proviene da un certo potentato straniero che si è risentito per alcuni sviluppi di carattere coloniale del nostro paese. È stata scritta sull'impulso del momento e sotto la sua totale responsabilità. È stato appurato che i suoi ministri ne sono all'oscuro e, al tempo stesso, la lettera è stilata in termini così inopportuni e alcune frasi hanno un tono così provocatorio che, se fosse portata a conoscenza della cittadinanza, provocherebbe un'ondata di sdegno e non esito ad affermare che, entro una settimana, l'Inghilterra sarebbe coinvolta in un conflitto armato». Holmes scrisse un nome su un foglietto di carta che porse al premier. «Esattamente, proprio lui. Ed è questa lettera, questa lettera che potrebbe voler dire la perdita di miliardi di sterline e di centinaia di migliaia di vite umane che è andata smarrita in maniera così incomprensibile». «Ne ha informato il mittente?» «Sì, è stato spedito un telegramma cifrato». «Forse quella persona desidera che la lettera venga resa pubblica». «No, abbiamo fondati motivi per ritenere che si stia rendendo conto di aver agito con poca discrezione e molta avventatezza. Per lui e per il suo paese sarebbe un colpo ancora più grave che per noi se si risapesse il contenuto di questa lettera». «In questo caso, chi mai avrebbe interesse a diffonderla? Perché qualcuno dovrebbe desiderare di rubarla o di pubblicarla?» «Qui, signor Holmes, entriamo nel campo dell'alta politica internazionale, ma se lei considera la situazione europea, non avrà difficoltà a comprenderne il motivo. L'intera Europa è un campo di battaglia ed esistono due schieramenti di potere militare che più o meno si equivalgono. La Gran Bretagna regge il braccio della bilancia. Se dovesse muovere guerra ad una delle due confederazioni, garantirebbe la supremazia dell'altra, sia che essa entri in guerra o che rimanga neutrale, mi segue?» «Perfettamente. Quindi è interesse dei nemici di questo potentato entrare in possesso di questa lettera e divulgarla così da provocare una rottura fra il suo paese ed il nostro. Esatto, è così. E a chi sarebbe inviato questo documento se cadesse nelle mani di un avversario? A una qualsiasi delle grandi cancellerie europee, ed è probabile che in questo momento stia già viaggiando verso la sua destinazione alla massima velocità». Il signor Hope lasciò ricadere la testa sul petto ed emise un gemito sommesso. Il premier gli posò una mano sulla spalla con gesto affettuoso. «È stata una disgrazia, amico mio. Nessuno di noi pensa a biasimarla. Sappiamo che ha preso tutte le precauzioni possibili ed immaginabili. In ogni caso, adesso che è stato messo al corrente dei fatti, signor Holmes, quale linea di condotta intende seguire?» Holmes scossa la testa con in aria sconfortata. «Lei è certo, eccellenza, che se questo documento non verrà ritrovato ci sarà una guerra? Ritengo la cosa molto probabile. Allora si prepari ad una guerra. Sono parole dure le sue, signor Holmes. La prego di considerare i fatti. È impossibile che il documento sia stato sottratto dopo le undici e mezzo di notte, poiché mi si assicura che il signor Hope e sua moglie si trovavano entrambi in camera da quell'ora fino al momento in cui la scomparsa è stata accertata. Il documento è stato dunque prelevato ieri sera tra le sette e mezzo e le undici e mezzo, giacché chi l'ha preso sapeva evidentemente che si trovava lì ed era ansioso di impadronirsene al più presto. Ora, se un documento di tale importanza è stato sottratto a quell'ora dove può trovarsi adesso. Chi lo ha rubato non può avere nessun motivo di conservarlo per sé, ma deve averlo subito trasmesso a chi di dovere. Quali speranze abbiamo noi, non dico di recuperarlo, ma anche solo di rintracciarlo. Il primo ministro si alzò. Quanto dice è perfettamente logico, signor Holmes. Credo davvero che la cosa sia ormai fuori della nostra portata. Immagino comunque, tanto per fare un'ipotesi, che il documento sia stato rubato dalla cameriera o dal domestico. Sono entrambi servitori vecchi e fidati. Mi è perso di capire che la sua camera è situata al secondo piano, che non ha nessun ingresso dall'esterno e che dall'interno nessuno potrebbe salire inosservato. Deve quindi essere stato qualcuno della casa a sottrarre il documento. A chi lo avrà portato il ladro? A una delle tante spie internazionali e agenti segreti i cui nomi sono abbastanza familiari? Ve ne sono tre che possiamo considerare i migliori nella loro professione. Comincerò la mia ricerca informandomi se ognuno di costoro è al proprio posto. Se ne manca uno, e soprattutto se è scomparso da ieri notte, potremo avere qualche indicazione di dove il documento sia andato a finire. E perché dovrebbe essere scomparso? domandò il segretario per gli affari europei. Gli basterebbe portare la lettera ad una qualsiasi ambasciata di Londra, non le pare? No, non credo. Questi agenti lavorano indipendentemente e i loro rapporti con le Holmes. Un agente segreto porta sempre un documento di valore a destinazione con le proprie mani. Ritengo che il suo ragionamento fili perfettamente. Intanto, Hope, non possiamo trascurare gli altri nostri doveri a causa di questa disgrazia. Se durante la giornata interverranno fatti nuovi, glieli comuniceremo immediatamente, così come lei ci farà sapere i risultati delle sue ricerche personali. I due statisti si inchinarono ed uscirono gravemente dalla stanza. Quando i nostri illustri visitatori si furono allontanati, Holmes accese in silenzio la pipa e restò seduto a lungo, immerso in una profonda meditazione. Io avevo aperto il giornale del mattino e mi ero dedicato alla lettura del resoconto di un delitto sensazionale commesso a Londra nella notte precedente, quando il mio amico lanciò un'esclamazione, balzò in piedi e posò la pipa sulla mensola del camino. «Sì», disse, «non vi è altro mezzo da tentare. La situazione è gravissima, ma non ancora del tutto disperata. Se potessimo sapere con sicurezza chi ha preso la lettera, sarebbe ancora possibile impedirne il passaggio in altre mani. Dopotutto, con quella gente è soltanto questione di denaro, ed io ho dietro di me il tesoro britannico. Se la lettera è ancora sul mercato, la comprerò. Anche se questo dovesse ulteriormente gravare sulle tasse dei poveri cittadini, può darsi che il tizio la trattenga per vedere quali offerte gli vengono fatte da questa parte prima di tentare la fortuna dall'altra. Di individui così audaci nel gioco, ce ne sono soltanto tre veramente abili, e cioè Oberstein, Lerothier ed Eduardo Lucas. Li andrò a trovare tutti e tre. Diedi un'occhiata al mio giornale del mattino. «Questo Eduardo Lucas abita in Godolphin Street?» «Sì». «Allora temo che non lo vedrà». «E perché? Perché è stato assassinato nella sua abitazione questa notte?» «Il mio amico mi aveva così tante volte sbalordito nel corso delle nostre avventure che mi accorsi con un vero senso di esultanza di averlo questa volta completamente sbalordito a mia volta. Mi fissò a bocca aperta, quindi mi strappò il foglio dalla mano». Ecco l'articolo che stavo leggendo quando lui si era alzato dalla sua seggiola. Delitto a Westminster Un misterioso delitto è stato commesso la notte scorsa al numero 16 di Godolphin Street, una di quelle strade antiche e appartate fiancheggiate da dimore settecentesche che si trovano fra il fiume e l'abbazia, quasi ai piedi della grande torre del Parlamento. In una di queste piccole ma eleganti case abitava da qualche anno il signor Eduardo Lucas, molto noto negli ambienti sociali per la sua affascinante personalità e per la sua ben meritata reputazione di essere uno dei migliori tenori non professionisti del paese. Il signor Lucas è scapolo, ha 34 anni e la sua servitù si compone della signora Pringle, un'anziana governante, e di Milton, il suo valletto. La governante si corica presto e la sua stanza è all'ultimo piano. Il valletto, invece, aveva la serata libera ed era andato a trovare un amico ad Hammersmith. Dalle dieci in poi, il signor Lucas era solo in casa. Non si sa che cosa sia successo durante quelle ore, ma a mezzanotte meno un quarto, il vigile Barrett, passando lungo Godolphin Street, notò che la porta del numero 16 era socchiuse. Bussò, ma nessuno rispose. Scorgendo una luce nella stanza sul davanti, entrò nell'androne e bussò di nuovo. Anche questa volta, nessuno rispose. Spinse quindi la porta ed entrò. La stanza era nel caos, i mobili spinti da una parte e una sedia rovesciata al centro. Accanto a questa, con la mano ancora stretta intorno ad una delle zampe, geciva lo sfortunato inquilino. Era stato pugnalato al cuore e la morte deve essere stata istantanea. L'arma con cui è stato commesso il crimine è un pugnale indiano ricurvo, preso da una panoplia di armi orientali che ornava una delle pareti. Sembra, però, che il movente del delitto non sia stato il furto, perché non era stato fatto alcun tentativo di trafugare gli oggetti di valore contenuti in quella stanza. Il signor Eduardo Lucas era una figura tanto nota e popolare che la sua fine violenta e misteriosa susciterà profondo dolore e partecipazione fra i suoi numerosi amici. «Bene, Watson, che cosa ne pensa?» chiese Holmes dopo una lunga pausa. «È una coincidenza davvero strana!» «Coincidenza! Qui abbiamo uno dei tre uomini che abbiamo indicato come possibili attori di questo dramma e muore di morte violenta proprio all'ora in cui noi sappiamo che il dramma si è svolto. Le possibilità che si tratti di una coincidenza sono di una contro un miliardo di miliardi. No, caro Watson, i due eventi sono collegati. Devono essere collegati. Sta a noi scoprirne il collegamento. «Ma adesso la polizia saprà tutto?» «Non tutto. Sanno quello che vedono a Godolphin Street, ma non sanno e non sapranno mai niente di Whitehall Terrace. Soltanto noi sappiamo delle due cose e possiamo scoprire quale nesso ci sia fra di loro. In ogni caso, c'è un fattore, ovvio, che avrebbe indirizzato i miei sospetti su questo Lucas. Godolphin Street, Westminster, è a pochi minuti di cammino da Whitehall Terrace. Gli altri agenti segreti che ho nominato vivono ai margini del West End. Era quindi più facile per Lucas che non per gli altri stabilire un contatto o ricevere un messaggio da qualcuno nella casa del segretario per l'Europa. Una piccolezza, ma quando gli eventi si svolgono entro un limitato arco di tempo, può dimostrarsi essenziale. E adesso, che cos'è questo? Era entrata la signora Hudson, portandoci sul vassoio il biglietto da visita di una signora. Holmes gli diede un'occhiata, inarcò le sopracciglia e me lo porse. «Chieda a Lady Hilda Torloni Hope se vuole avere la cortesia di salire», disse. Un attimo dopo, il nostro modesto appartamento, già così onorato al mattino, fu onorato ancora di più dall'ingresso della donna più graziosa di Londra. Avevo spesso sentito parlare della bellezza della figlia minore del duca di Belminster, ma nessuna descrizione e nessuna sbiadita fotografia mi aveva preparato ad un fascino così sottile e delicato e ai colori stupendi di quel volto squisito. Eppure, vedendolo quel mattino d'autunno, non era tanto la bellezza che colpiva. Il viso era grazioso, ma pallido per l'emozione, gli occhi lucenti, ma di una lucentezza febbrile, le labbra sensibili, tese e indurite in uno sforzo di autocontrollo. Il terrore, non la bellezza, era la prima cosa che saltava gli occhi mentre la nostra bella visitatrice si stagliò per un attimo nel vano della porta. «Mio marito è stato qui, signor Holmes?» «Sì, signora, è stato qui.» «Signor Holmes, la scongiuro di non parlargli della mia visita.» Holmes, con un freddo inchino, fece cenno alla signora di accomodarsi. «Vostra signoria, mi mettete in una posizione molto delicata. La prego di accomodarsi e di dirmi cosa desidera, ma temo di non poterle fare una promessa incondizionata.» Lei attraversò la stanza sedendosi di spalle alla finestra. Era una presenza regale, alta, elegante, piena di femminilità. «Signor Holmes», disse chiudendo ed aprendo le mani guantate di bianco. «Le parlerò francamente, sperando che lei voglia fare altrettanto con me. La confidenza fra me e mio marito è totale, tranne che per una cosa sola, ovvero la politica. Su quell'argomento le sue labbra sono sigillate. Non mi dice mai nulla. Ora, so che ieri sera a casa nostra si è verificato un deplorevole incidente e so che è scomparso un documento, ma dal momento che si tratta di una questione di politica, mio marito non vuole parlarmene. Ora, è indispensabile, e ripeto indispensabile, che io possa capire fino in fondo di che cosa si tratta. Lei è l'unica persona, a parte i politici, a conoscenza di come stiano realmente le cose. E quindi la prego, signor Holmes, di dirmi esattamente cos'è accaduto e quali saranno le conseguenze. Mi dica tutto, signor Holmes, la prego. Non tenga il segreto per riguardo agli interessi del suo cliente, perché le assicuro che per il suo interesse, se solo se ne rendesse conto, sarebbe più utile che io sapessi tutto. Che genere di documento è stato rubato? Signora, quello che lei mi chiede è veramente impossibile. La donna, con un gemito, si nascose il viso fra le mani. Rifletta, signora. Se suo marito ritiene opportuno lasciarla all'oscuro su questo punto, è forse lecito a me, che ho appreso i fatti con l'impegno solenne del segreto professionale, rivelarglieli? Non è giusto che chieda questo a me, è a lui che deve chiederlo. Ma l'ho fatto, signore. Vengo ora da lei come ultima risorsa, ma, anche senza dirmi nulla di concreto, potrebbe rendermi un grande servizio, illuminandomi almeno su di un punto. E quale, signora? La carriera politica di mio marito potrebbe essere compromessa da questo incidente? Certo, signora. A meno che la cosa non sia giusti, l'effetto che ne risulterà non potrà che essere deplorevole. Ah, sospirò affannosamente, come una persona i cui dubbi siano finalmente dissipati. Ancora una domanda, signor Holmes. Da una frase che mio marito si è lasciato sfuggire nel primo smarrimento della scoperta, ho capito che la perdita di questo documento potrebbe avere terribili conseguenze a livello pubblico. Se suo marito le ha detto questo, non sarò certo io a negarlo. Beh, di quale natura sono queste conseguenze? Mio Dio, signora. Ecco che di nuovo mi chiede una cosa alla quale non mi è concesso rispondere. In questo caso, non la disturberò più a lungo. Non posso biasimarla, signor Holmes, per essersi rifiutato di parlarmi con maggiore franchezza, e sono certa che dal canto suo non mi giudicherà male, se desidero, anche contro la volontà di mio marito, condividere le sue preoccupazioni. La prego però ancora una volta di non fare parola della mia visita con mio marito. Giunta sull'uscio, si girò per salutarci e debbi per un'ultima volta la visione di quel bellissimo volto smarrito, di quegli occhi spaventati, di quella bocca contratta, che poi sparì. Mi dica, Watson, dato che il gentil sesso è di sua stretta competenza, mi disse Holmes sorridendo dopo che l'ondulante fruscio di gonne si fu perso nel tonfo dell'uscio sbattuto. Mi sa dire qual è il gioco di quella squisita dama? Che cosa voleva, davvero? Credo che abbia detto la verità e che la sua angoscia sia naturale. Rifletta sul suo aspetto, Watson, sui modi, l'emozione contenuta, l'inquietudine, l'insistenza nel fare le domande, e si ricordi che proviene da una casata che difficilmente mostra le proprie emozioni. Eppure, era molto commossa. Consideri anche con quanta curiosa tenacia tentava di assicurarmi che la cosa migliore per suo marito fosse che le dicessi tutto. Che cosa intendeva con ciò? E avrà anche notato Watson come ha manovrato per avere la luce di spalle. Non desiderava che vedessimo la sua espressione. Già, ha scelto proprio l'unica seggiola della stanza che le poteva servire a questo scopo. E tuttavia, i comportamenti femminili sono così imperscrutabili. Ricorda la donna di Margate che io sospettai per il medesimo motivo mentre la soluzione esatta era che aveva il naso lucido? Com'è possibile costruire su simili sabbie mobili? Il loro gesto più normale può avere una quantità di significati mentre la loro condotta più straordinaria può dipendere da una forcina o da un'arriccia a capelli. Beh, arrivederci, Watson. Se ne va? Sì, passerò la mattinata a Godolphin Street con i nostri amici delle forze dell'ordine. La soluzione del nostro problema giace con Eduardo Lucas per quanto debba ammettere che non ho la più pallida idea dell'aspetto che questa soluzione potrà assumere. È un errore capitale teorizzare in anticipo sui fatti. Stia in guardia, mio buon Watson e riceva ogni nuovo eventuale ospite. Io la raggiungerò a pranzo, se potrò. Per tutto quel giorno, il giorno dopo e il giorno dopo ancora, Holmes rimase di un umore che i suoi amici definirebbero taciturno, ma che gli altri definirebbero scontroso. Usciva ed entrava, fumava una sigaretta dietro l'altra, suonava qualche passaggio sul violino, si abbandonava sogni ad occhi aperti, divorava tramezzini nelle ore più impossibili e non rispondeva nemmeno alle mie occasionali domande. Evidentemente, le cose non procedevano come avrebbe voluto. Non disse una parola sulla faccenda di cui si stava occupando e solo dai giornali venni a conoscere i particolari dell'inchiesta e l'arresto, seguito da un immediato rilascio, di John Meaton, il valletto del defunto. La giuria del coroner emise lo scontato verdetto di omicidio volontario, ma i colpevoli continuarono a rimanere sconosciuti. Non fu avanzato nessun movente, la stanza era piena di oggetti di valore che non erano stati toccati, le carte del morto non erano state manomesse, furono accuratamente esaminate e dimostrarono che Lucas era un attento studioso di politica, un inguaribile pettegolo, un notevole linguista e un instancabile scrittore di lettere. Era stato in termini di stretta amicizia con i principali politici di varie nazioni, ma fra i documenti che riempivano i suoi cassetti non si era scoperto niente di sensazionale. In quanto ai suoi rapporti con le donne sembravano essere stati promiscui ma superficiali. Aveva molte conoscenze fra il bel sesso, ma poche amiche e nessuna particolare fiamma. Le sue abitudini erano regolari, la sua condotta inoffensiva. La sua morte era un completo mistero e sembrava destinata a rimanere tale. In quanto invece all'arresto di John Meaton, il valletto, era stata una decisione estrema presa come alternativa all'inazione totale. Ma fu impossibile sostenere un'accusa contro di lui. Quella sera si trovava Dunnersmith a casa di amici, un alibi di ferro. È vero che era uscito dalla loro casa ad un'ora che lo avrebbe dovuto riportare a Westminster prima della scoperta del delitto, ma la sua asserzione di aver coperto a piedi parte del tragitto sembrava abbastanza probabile, visto che era una bellissima serata. Era arrivato a casa a mezzanotte e sembrava sconvolto dalla inaspettata tragedia. Infatti, era sempre stato in ottimi rapporti con il suo padrone. Molti oggetti appartenenti al defunto e specialmente un piccolo necessaire per la barba furono trovati fra gli effetti personali del valletto, ma egli spiegò che erano regali del padrone e la governante lo confermò. Meaton era al servizio di Lucas da ben tre anni. Era strano che Lucas non lo avesse mai portato con sé sul continente. A volte si era recato a Parigi per tre mesi, lasciando però Meaton ad occuparsi della casa di Godolphin Street. In quanto la governante, la sera del delitto non aveva sentito niente. Se il suo padrone riceveva una visita, era lei a far entrare l'ospite. Così, per quanto potevo leggere dai giornali, dopo tre giorni, il mistero era ancora il punto di partenza. Se Holmes sapeva qualcosa di più, lo teneva per sé, ma quando mi disse che l'ispettore Lestrade lo aveva messo a parte del caso, compresi che era il corrente di tutti gli sviluppi. Il quarto giorno, la stampa riportò un lungo telegramma proveniente da Parigi che sembrava risolvere tutto quanto. La polizia parigina, scriveva il Daily Telegraph, ha appena fatto una scoperta che solleva il velo sulla tragica morte del signore Eduardo Lucas, trovato brutalmente ucciso la sera di lunedì scorso a Godolphin Street, Westminster. I lettori ricorderanno che il defunto fu rinvenuto nella sua camera pugnalato e che i sospetti ricaddero sul valletto, il quale, però, fu in grado di presentare un alibi inoppugnabile. Ieri, alcuni domestici hanno informato le autorità che una certa signora, conosciuta come Madame Fournay, moglie di Henri Fournay, abitante in una villetta di Rue Asterlitz, era impazzita. Esami clinici hanno accertato che effettivamente la donna soffriva di una forma di mania pericolosa e irreversibile. Indagini condotte dalla polizia hanno appurato che Madame Fournay era appena rientrata da un viaggio a Londra, martedì scorso, ed alcuni elementi sembra la si possa collegare al delitto di Westminster. Da un confronto fotografico si è potuto dimostrare senza ombra di dubbio che Messie Henri Fournay ed Eduardo Lucas erano la stessa persona e che il defunto, per qualche motivo, conduceva una doppia vita a Londra e a Parigi. Madame Fournay, di origine creola, è una donna estremamente emotiva e in passato ha dato segni di gelosia quasi maniacale. Si ritiene che, durante uno di questi accessi di gelosia, abbia commesso il terribile crimine che tanta sensazione ha destato fra la popolazione londinese. Non è stato ancora possibile ricostruire i suoi movimenti durante quel lunedì sera, ma una donna rispondente alla sua descrizione attirò l'attenzione, il martedì mattina, alla stazione di Charing Cross per il suo aspetto sconvolto ed il suo violento gesticolare. È probabile, quindi, che ella abbia compiuto il crimine in stato di infermità mentale o che il crimine stesso abbia fatto perdere la ragione alla povera donna. Al momento non è in condizioni di fornire un resoconto coerente di quelle ore e i sanitari disperano in un suo ritorno alla normalità. È stato anche accertato che una donna, che avrebbe potuto essere Madame Fournay, è stata vista lunedì sera, ferma per qualche ora, ad osservare la casa di Godolphin Street. Che cosa ne dice Holmes? Caro Watson, rispose alzandosi da tavola e mettendosi a passeggiare su e giù per la stanza. Apprezzo la sua grande pazienza, ma se non le ho detto niente negli ultimi tre giorni, è perché non c'è niente da dire. Anche adesso questo rapporto da Parigi ci aiuta ben poco. Direi che è definitivo per quanto riguarda la morte di quell'uomo. La morte di quell'uomo non è che un incidente, una bazzecola in confronto al nostro compito reale che è quello di rintracciare quel documento e scongiurare una catastrofe europea. Una sola cosa importante è successa in questi ultimi tre giorni e cioè che non è successo niente. Quasi ogni ora ricevo comunicati governativi ed è certo che in nessuna nazione d'Europa c'è aria di pericolo. Ora, se questa lettera fosse in circolazione, no, non può essere in circolazione, ma se non è in circolazione, dov'è finita? Chi ce l'ha? Perché non viene resa nota? Questo è l'interrogativo che mi martella nel cervello. È stata una coincidenza che Lucas fosse ucciso proprio la sera in cui è scomparsa la lettera? L'ha mai avuta fra le mani? E, in caso affermativo, come mai non è fra le sue carte? Se l'è portata via quella pazza di sua moglie? E in questo caso è nella sua casa di Parigi? Ma come posso perquisirla senza suscitare i sospetti della polizia francese? Questo, mio caro Watson, è uno di quei casi in cui la legge è per noi altrettanto pericolosa dei criminali. Tutto è contro di noi, ma la posta in gioco è colossale. Se solo riuscissi a concluderla con successo, toccherei certamente il vertice della mia carriera. Ah, ecco l'ultimo bollettino dal fronte. Chiede una rapida occhiata ad un messaggio che gli era stato consegnato. Bene, sembra che l'estrade abbia notato qualcosa di interessante. Prenda il cappello, Watson, e faremo una passeggiata fino a Westminster. Era la mia prima visita alla scena del delitto. Una casa alta, squallida, stretta, compassata, formale e solida come il secolo che l'aveva vista nascere. Alla finestra principale scorgemmo la faccia da bulldog di l'estrade che ci accolse con calore dopo che un poliziotto grande e grosso ci aprì la porta e ci fece entrare nella stanza dove era stato commesso il delitto. Anche se oramai l'unica traccia che ne restava era una sinistra macchia irregolare sul tappeto. Un piccolo tappeto grezzo, quadrato, al centro della stanza circondato da un'ampia zona di antico perché a blocchi quadrati e lucidissimo. Accanto al camino una stupenda collezione di armi, una delle quali era stata usata quella tragica notte. Nel vano della finestra c'era un sontuoso scrittoio e ogni particolare dell'appartamento, dai quadri ai tappeti e agli addobbi, parlava di un gusto talmente lussuoso da sconfinare nell'effemminato. «Ha visto le notizie da Parigi?» chiese Lestrade e Holmes annuì col capo. «Pare che i nostri amici francesi l'abbiano azzeccata questa volta. Senza dubbio deve essere andata come dicono loro. Deve aver bussato all'uscio. Una visita sorpresa, immagino, dato che Lucas divideva la sua esistenza in compartimenti stagni. Lui avrà dovuto farla entrare per forza, non potendo lasciarla per strada. Lei gli avrà detto di averlo scoperto, gli avrà fatto una scenata, dalle prole saranno passati ai fatti e poi è venuta la conclusione rappresentata da quell'arma laggiù. Le cose però non devono essere successe all'improvviso perché queste seggiole erano buttate tutte da una parte e il morto ne stringeva in mano una come se avesse tentato di tenerla a bada con quella. Abbiamo tutto chiaro come se avessimo visto con i nostri occhi. Holmes inarcò le sopracciglia. E nonostante questo mi avete mandato a chiamare? Ah, già, c'è anche un'altra cosa, una semplice sciocchezza, ma di quel genere per cui lei mostra sempre un grande interesse. Una stranezza, sa, anzi, io la chiamerei una bizzarria. Non ha nulla a che vedere con l'avvenimento principale, non credo almeno. Che cos'è, insomma? Ecco, lei sa che nei delitti di questo tipo facciamo sempre grande attenzione a non spostare nulla ed infatti nulla è stato rimosso. Abbiamo sempre tenuto un agente di guardia giorno e notte. Stamattina, dopo il funerale e al termine delle indagini, per quanto riguarda almeno questa stanza, abbiamo pensato di fare un po' di ordine. Abbiamo avuto così occasione di sollevare questo tappeto. Come vede, non è inchiodato e abbiamo trovato... Avete trovato? La faccia di Holmes si era fatta tesa dall'angoscia. Beh, scommetto che nemmeno fra cent'anni riuscirebbe ad immaginare quello che abbiamo scoperto. Vede quella macchia sul tappeto? Non le sembra che ci sarebbe dovuto filtrare sotto un bel po' di sangue? Certamente! Eppure resterà sorpreso quando scoprirà che sull'impiantito nel punto corrispondente non c'è nessuna macchia. Nessuna macchia? Ma ci deve! Già, eppure non c'è. L'estrade prese in mano l'angolo del tappeto e tirandolo dall'altra parte ci mostrò che la cosa era effettivamente come l'aveva descritta. Eppure il rovescio è macchiato come il diritto, deve per forza aver lasciato un segno. All'idea di aver messo in imbarazzo il celebre esperto, l'estrade ridacchiò soddisfatto. Adesso le darò io la spiegazione. C'è sì una seconda macchia, ma questa non corrisponde all'altra, lo può vedere anche da sé. Così dicendo, rivoltò un'altra parte del tappeto, rivelando una vasta macchia scarlatta sopra il riquadro di legno del pavimento di antica foggia. Che cosa ne pensa, signor Holmes? Ma è semplicissimo. Le due macchie effettivamente corrispondevano, ma il tappeto è stato girato e poiché è quadrato e non inchiodato, la cosa è stata fatta facilmente. La polizia non ha bisogno di lei, signor Holmes, per capire che il tappeto deve essere stato girato. Per forza lo è stato, poiché le macchie sono sovrapposte l'una all'altra se lei la gira da questa parte. Ma quel che vorrei sapere è questo. Chi ha spostato il tappeto e per quale ragione? Capivo nell'osservare il volto rigido di Holmes che stava vibrando di un'intensa emozione. Senta un po', Lestrade, disse. La gente che è di guardia nel corridoio non si è mai mosso da qui? No, mai. Bene, segue il mio consiglio, lo interroghi attentamente. Non lo faccia davanti a noi, noi aspetteremo qui. Lo porti nell'altra stanza, sarà più probabile che ottenga una confessione se si troverà tu per tu con lui. Gli domandi come ha osato far entrare degli estranei e quel che è peggio lasciarli soli in questa stanza. Non gli domandi se lo ha fatto, consideri la cosa come sicuramente avvenuta. Gli dica che sa che qualcuno è entrato qui dentro. lo interroghi a fondo, gli faccia capire che una confessione completa e senza riserve è la sua sola speranza di essere perdonato. Faccia esattamente come le ho detto. Per Giove, se è così dovrà fare i conti con me, gridò l'estrade. Si precipitò nel vestibolo e pochi minuti dopo la sua voce grossa e che già va concitata nella camera attigua. Adesso, Watson, adesso, esclamò Holmes con un'energia frenetica. Tutte le sue forze demoniache, mascherate dietro un'apparenza solo esteriormente distratta, esplosero in un parossismo di vigore. Strappò via il tappeto dal pavimento ed ecco che un attimo dopo era a terra con mani e piedi cercando di spostare i vari listelli di legno che formavano il parquet. Uno di questi si volse di lato mentre Holmes scavava con le unghie nei suoi bordi e si arrovesciò all'indietro come il coperchio di una scatola rivelando una piccola cavità oscura. Holmes vi affondò la mano tremante di emozione ma la ritirò subito con un'amare imprecazione di collere e disappunto. Il loculo era vuoto. Presto, Watson, presto, rimettiamo tutto a posto. Il coperchio di legno si richiuse e avevamo fatto appena in tempo a stendere il tappeto che udimmo la voce di Lestrade risuonare nel corridoio. Trovo Holmes appoggiato languidamente contro la mensola del camino mentre con aria rassegnata e paziente si sforzava di dissimulare uno sbadiglio prolungato e irresistibile. Mi dispiace di averla fatta aspettare, signor Holmes. Vedo che all'aria è molto annoiata. In ogni caso è proprio come ha detto lei. Ha confessato veramente. Entra McPherson e racconta a questi signori il tuo imperdonabile modo di agire. Il grosso poliziotto entrò mogio nella stanza tutto rosso in viso e contrito. Non intendevo fare niente di male ve lo giuro. La signora è venuta qui ieri sera mi ha detto che aveva sbagliato casa poi ci siamo messi a chiacchierare sa mi sentivo talmente solo chiuso qua dentro tutto il giorno. Su che cosa è successo poi? voleva vedere il luogo del delitto mi ha spiegato di averne letto sui giornali era una signora molto perbene ed io non ci ho trovato niente di male a lasciarle dare un'occhiatina. Quando ha visto quella macchia sul tappeto è caduta a terra lunga distesa come se fosse morta. Io sono corso di là a prendere un po' d'acqua ma non sono riuscito a farla rinvenire e allora sono sceso all'osteria qui all'angolo a cercare un po' di brandy ma al mio ritorno la signora era già rinvenuta e se n'era andata forse si era vergognata credo e quel tappeto? E che cosa vuole signore? Certo era un po' fuori posto quando sono tornato indietro capisce lei ci è caduta sopra e dato che sotto c'è il parquet deve essere scivolato io poi l'ho rimesso come stava prima è una lezione che ti insegnerà a non imbrogliarmi McPherson disse Lestrade con sussiego certo avrai pensato che questa tua grave infrazione al dovere non sarebbe mai stata scoperta eppure è bastata una semplice occhiata a quel tappeto per convincermi che qualcuno era entrato qui dentro è una vera fortuna per te ragazzo mio che non manchi niente altrimenti ti troveresti già al fresco mi spiace di averla scomodata per una simile sciocchezza signor Holmes ma ritenevo che il fatto che la seconda macchia non corrispondesse alla prima avrebbe potuto interessarla sicuro che mi è interessato dica un po' agente quella donna è stata qui una volta sola? sì signore una volta sola e chi era? non lo so signore rispondeva ad un annuncio sul giornale di qualcuno che cercava una dattilografa ma era venuta al numero sbagliato una signora molto gentile signore molto carina era alta bella? sì signore aveva l'aria di essere una donna molto fine sì mi sembrava che fosse bella anzi qualcuno la troverebbe bellissima oh signora agente mi lasci dare un'occhiatina mi ha fatto aveva maniere molto affettuose e persuasive e ho pensato che non ci fosse nulla di male nel lasciarle mettere la testa dentro l'uscio e com'era vestita? o molto semplicemente aveva un lungo mantello che la copriva fino ai piedi e che ora era? doveva essere verso sera perché stavano accendendo i lampioni quando sono tornato con il brandy molto bene disse Holmes andiamo Watson penso che abbiamo affari più importanti da sbrigare altrove mentre lasciavamo la casa l'estrade rimase nella stanza centrale e noi fum accompagnati dal povero poliziotto che aveva l'aria di un cane bastonato fino all'uscio sulla strada Holmes si girò sulla soglia e gli mostrò qualcosa che teneva in mano la gente fissò l'oggetto con la massima attenzione oh santo cielo esclamò con un'espressione di sbalordimento sul viso Holmes gli posò un dito sulle labbra si ricacciò la mano nella tasca del panciotto e scoppiò in una risata fragorosa mentre ci allontanavamo insieme meraviglioso esclamò andiamo mio caro Watson il sipario si leva per l'ultimo atto sarà lieto di apprendere che non ci sarà nessuna guerra che l'onorevole Turloni Hope non vedrà rovinata la sua brillante carriera che l'indiscreto sovrano non sarà punito della sua indiscrezione che il primo ministro non sarà preoccupato da nessuna complicazione europea e che con un po' di tatto e di accortezza da parte nostra nessuno ci rimetterà un centesimo a causa di questa faccenda che stava per prendere una piega molto brutta mi sentì riempire di ammirazione per quell'uomo straordinario hai indovinato anche questa volta osservai ma che Watson ci sono anzi dei punti per me al momento più oscuri che mai ma abbiamo così tanto in mano che sarebbe veramente colpa nostra se non riuscissimo ad ottenere il resto andremo subito a Whitehall Terrace e cercheremo di concludere questa storia quando arrivamo alla residenza del segretario per l'Europa Holmes chiese di Lady Hilda Trulone Hope fumo introdotti nel salottino signor Holmes protestò la signora avvampando d'indignazione questo è veramente sleale e poco generoso da parte sua come le ho spiegato desideravo che la mia visita rimanesse un segreto un devitare che mio marito pensasse che volevo intromettermi nelle sue faccende eppure lei mi compromette venendo qui e dimostrando in tal modo che esiste fra di noi un rapporto d'affari purtroppo signora non avevo alternative sono stato incaricato di rintracciare questo documento importantissimo devo quindi chiederle signora di avere la cortesia di consegnarmelo la donna si alzò di scatto con il viso improvvisamente terreo aveva lo sguardo vitreo barcollava temetti che stesse per svenire poi con uno sforzo enorme si vinse e il suo volto non mostrò che il più assoluto sbigottimento lei mi sta insultando signor Holmes andiamo andiamo signora è inutile mi dia la lettera si precipitò al campanello il maggior domo vi accompagnerà alla porta non suoni le dilda se lo farà tutti i miei sforzi per evitare uno scandalo andranno perduti mi consegni la lettera e tutto andrà a posto se lei collabora con me sistemerò io ogni cosa se invece mi si mette contro dovrò smascherarla rimase in piedi con aria altera e sdegnosa una figura reale fissando Holmes come se volesse leggergli in fondo all'anima la mano era sul campanello ma non lo aveva ancora suonato lei sta cercando di spaventarmi non è molto virile signor Holmes venire qui ad angariare una donna lei dice di sapere qualcosa e che cosa esattamente la prego si accomodi signora se cadesse potrebbe farsi del male la ringrazio le do cinque minuti signor Holmes ne basterà soltanto uno le dilda sono al corrente della sua visita a Eduardo Lucas del fatto che lei gli ha consegnato un documento del modo ingegnoso con cui è tornata ieri sera in quella casa e di come ha preso la lettera dal nascondiglio sotto al tappeto lo guardava terrea in volto e inghiottì due volte prima di riuscire a parlare lei è pazzo signor Holmes un pazzo gridò alla fine il mio amico trasse di tasca un pezzetto di cartone era il viso di una donna ritagliato da una fotografia l'ho portata perché pensavo che avrebbe potuto servire spiegò il poliziotto l'ha riconosciuta ebbe una specie di singhiozzo e il capo le ricadde sulla spalliera della seggiola andiamole dilda lei ha la lettera tutto si può ancora aggiustare non ho alcuna intenzione di metterla nei guai una volta restituita la lettera al suo marito il mio compito sarà finito segua il mio consiglio e sia sincera con me è la sua unica occasione il coraggio di quella donna era ammirevole anche adesso non voleva ammettere la sconfitta lei ripeto signor Holmes che lei sta sognando Holmes si alzò mi dispiace per lei Lady Hilda ho fatto del mio meglio per aiutarla ma vedo che non è servito a nulla suonò il campanello ed entrò il maggiordomo il signor Hope è in casa? sarà qui all'una meno un quarto signore Holmes diede un'occhiata all'orologio ancora un quarto d'ora disse benissimo aspetterò il maggiordomo non aveva ancora chiusa la porta che Lady Hilda gli si gettò davanti in ginocchio con le mani tese e il bel viso inondato di lacrime mi risparmi questo signor Holmes me lo risparmi lo scongiurò sconvolta e supplichevole per amor del cielo non glielo dica lo amo tanto non vorrei gettare nemmeno un'ombra sulla sua vita e so che questo spezzerebbe il suo nobile cuore Holmes la fece rialzare grazie signora per essere rientrata in sé sia pure all'ultimo momento non c'è un istante da perdere dov'è la lettera corse ad uno scrittoio lo aprì e ne trasse una lunga busta azzurra eccola signor Holmes e volessi Dio se non l'avessi mai vista come facciamo per restituirgliela mormorò Holmes fra sé e sé presto dobbiamo pensare a qualche sistema dov'è la valigia diplomatica è ancora nella sua camera meno male svelta signora la porti qui un momento dopo ricomparve recando una valigetta rossa e piatta come l'ha aperta prima ha un duplicato della chiave ma certo che ce l'ha su forza la apra Lady Hilda trasse dalla scollatura una minuscola chiave il coperchio della valigia si spalancò traboccava di carte Holmes infilò fra di esse la busta azzurra tra un foglio e l'altro il coperchio fu riabbassato la valigia richiusa e riportata nella camera da letto ora può anche arrivare disse Holmes abbiamo ancora dieci minuti la sto coprendo più di quanto dovrei Lady Hilda ma in cambio lei dovrebbe raccontarmi in questi pochi minuti cosa significa realmente questa storia straordinaria le dirò tutto signor Holmes esclamò la signora oh signor Holmes mi farei tagliare la mano destra pur di non dargli un attimo di dispiacere non c'è donna a Londra che ami suo marito quanto io amo il mio eppure se sapesse quello che ho fatto quello che sono stata costretta a fare non mi perdonerebbe mai il suo senso dell'onore è talmente profondo che mai dimenticherebbe o perdonerebbe un'azione poco onorevole da parte di un'altra persona mi aiuti signor Holmes sono la mia la sua felicità le nostre stesse vite ad essere in gioco presto signora il tempo passa si tratta di una mia lettera signor Holmes una lettera indiscreta scritta prima di sposarmi una lettera sciocca impulsiva la lettera di una ragazza innamorata non c'era niente di male ma lui l'avrebbe vista come un delitto se l'avesse letta non avrebbe mai avuto fiducia in me la scrissi tanti anni fa pensando che fosse una cosa passata e dimenticata e poi un bel giorno questo Lucas mi fece sapere che la lettera era in mano sua e che l'avrebbe mostrata a mio marito io lo supplicai dice dice che me l'avrebbe restituita se gli avessi portato un certo documento che era costudito in una valigetta diplomatica me lo descrisse aveva qualche informatore nell'ufficio che gliene aveva rivelato l'esistenza mi garantì che nessun danno ne sarebbe derivato per mio marito si metta nei miei panni signor Holmes che avrei potuto fare raccontare tutto a suo marito non potevo signor Holmes non potevo da una parte mi minacciava la rovina ma dall'altra per terribile che fosse sottrarre un documento a mio marito c'era una faccenda politica di cui non afferravo le implicazioni le uniche cose che mi interessavano erano l'amore e la fiducia di mio marito obbedì signor Holmes e feci un calco della chiave quell'individuo Lucas mi consegnò il duplicato aprì la valigetta presi il documento e lo recapitai a Godolphin Street lì che cosa accadde signora? bussai nel modo convenuto e Lucas mi aprì lo seguì nella stanza lasciando la porta socchiusa perché avevo paura a restare sola con lui ricordo che quando entrai fuori c'era una donna la transazione fu presto conclusa la mia lettera era sul tavolo gli diedi il documento mi restituì la lettera e in quel momento si sentì un rumore alla porta e dei passi nel corridoio Lucas alzò rapidamente il tappeto infilò il documento in qualche nascondiglio al di sotto e lo rimise a posto quello che accadde dopo è come un incubo ricordo un viso dalla carnagione scura stravolto una voce di donna che urlava in francese la mia attesa non è stata vana finalmente finalmente vi ho scoperti poi ci fu una collutazione violenta vedi lui con una sedia in mano e lei con un coltello fuggì da quell'orribile scena lontano da quella casa e solo la mattina lessi nei giornali il tragico epilogo quella sera ero felice perché avevo riavuto la mia lettera e ancora non sapevo cosa mi riservava il futuro solo il mattino seguente mi resi conto che non avevo fatto che scambiare un problema con un altro l'angoscia di mio marito quando si accorse della scomparsa del documento mi spezzò il cuore dominai a fatica l'impulso di gettarmi ai suoi piedi e di raccontargli che cosa avevo fatto ma avrei dovuto anche raccontargli il perché allora sono venuta da lei quella mattina stessa per cercare di capire l'enormità del mio gesto non appena l'ho compresa non ho pensato che a una sola cosa rientrare in possesso di quel documento doveva essere ancora nel punto in cui Lucas lo aveva nascosto poiché ciò era avvenuto prima che quella donna terribile entrasse nella stanza se però lei non fosse arrivata avrei ignorato per sempre l'ubicazione esatta di quel nascondiglio ma come fare ad entrare mi sono appostata di vedetta per due giorni consecutivi ma la porta non veniva mai lasciata aperta ieri sera ho fatto un ultimo tentativo come vi sono riuscita le è ormai noto ho portato via con me il documento e pensavo di distruggerlo perché non vedevo come avrei potuto restituirlo senza confessare la mia colpa a mio marito oddio sento i suoi passi sulle scale il segretario per gli affari europei irruppe concitamente nella sua stanza ha notizia signor Holmes ha notizie domandò ho qualche speranza ah si è ringraziato il cielo la sua faccia divenne raggiante il primo ministro sarà a pranzo con me posso metterlo a parte delle sue speranze ha dei nervi d'acciaio eppure so che dall'altro giorno non ha più chiuso occhio Jacobs puoi dire al signor primo ministro di salire quanto a te cara si tratta di cose di politica che non ti interessano ti raggiungeremo tra pochi minuti in sala da pranzo il premier appariva controllato ma capivo dallo scintillio dei suoi occhi e dal tremito delle sue mani ossute che condivideva pienamente l'emozione del giovane collega mi pare che lei abbia qualcosa da dirci signor Holmes per quanto negativa sinora rispose il mio amico la mia indagine mi fa tuttavia supporre che per il momento non vi sia alcun pericolo ma questo non basta signor Holmes non possiamo continuare a vivere sopra un vulcano dobbiamo sapere qualche cosa di più preciso ed io ho la speranza di offrirle infatti qualcosa di preciso è per questo che sono qui più ci penso più mi convinco che quella lettera non sia mai uscita da questa casa signor Holmes se ne fosse uscita ormai sarebbe certamente di dominio pubblico ma per quale motivo l'avrebbero presa per tenerla nascosta in questa casa non sono convinto che l'abbiano presa allora com'è potuta sparire dalla cassetta portavalori non sono convinto neanche che sia mai sparita dalla cassetta portavalori signor Holmes questa sua voglia di scherzare è davvero fuori luogo ha la mia parola d'onore che quella lettera è sparita dalla cassetta non ha più guardato nella sua cassetta dopo martedì mattina no era inutile può darsi che le sia sfuggita è impossibile le dico e io non ne sono convinto cose del genere sono già successe altre volte immagino ci saranno altri documenti può darsi che si sia mescolata con quelli ma era in cima può darsi che qualcuno abbia scosso la cassetta spostando così la lettera le dico che ho buttato all'aria ogni cosa comunque è presto detto Hope intervenne il premier si faccia portare qui la cassetta il segretario suonò il campanello Jacobs portami giù la cassetta portavalori stiamo perdendo del tempo inutilmente ma comunque se ci tenete proprio grazie Jacobs mettila qui ho sempre tenuto con me la chiave appesa alla catenella dell'orologio ecco i documenti guardate una lettera di Lord Merrow una relazione di Charles Hardy una nota da Belgrado appunti sulle tasse granarie russo-tedesche una lettera da Madrid una nota di Lord Flowers ma santo cielo ma com'è possibile Lord Bellinger Lord Bellinger il premier gli strappò di mano la busta azzurra sì è proprio quella è la lettera intatta Hope mi congratulo con lei grazie grazie che peso levato dal cuore ma è inconcepibile è impossibile signor Holmes lei è un mago uno stregone come ha fatto a sapere che era lì perché sapevo che non era in nessun altro posto non riesco a credere ai miei occhi il segretario si precipitò alla porta come un pazzo dov'è mia moglie devo dirle che tutto è finito per il meglio Hilda Hilda usci e udimmo risuonare la sua voce su per le scale il primo ministro guardò Holmes con occhi scintillanti andiamo signore disse qui c'è sotto qualcosa come ha fatto quella lettera a tornare nella cassetta Holmes si sottrasse sorridendo allo sguardo scurrutatore di quegli occhi formidabili beh anche noi abbiamo i nostri segreti diplomatici disse e raccogliendo il cappello si avviò alla porta grazie per l'ascolto se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri puoi fare una piccola donazione su Paypal o Ko-Fi tramite il link che trovi in descrizione inoltre se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro puoi trovarli anche su Spreaker Spotify ed Apple Podcast grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto